Ciao Bentornato a una nuova puntata del live delle Safety Rockstar Incontriamo qui personaggi che a prescindere dall'abito che indossano hanno in sé un'anima rock e ricordo sempre che non facciamo tanto riferimento all'aspetto musicale quanto il voler tracciare dei percorsi nuovi nella cultura del lavoro e in particolar modo nella cultura dello star bene insieme nello star bene insieme ovviamente è compreso l'occuparsi e il preoccuparsi della salute e della sicurezza sul lavoro nei vari meandri del web ho avuto la fortuna di incrociare una persona che stimo tantissimo perché ho ammirato da morire il suo ultimo libro che è Risorse inumane l'ho ammirato perché è proprio per me l'essenza del manager rock quindi quella persona che a prescindere poi dall'aspetto esteriore, dalla cosa dentro di sé ha una mentalità e un modo di agire veramente fuori dalle righe beh non aggiungo altro perché sarà bello parlare insieme a lui e quindi andiamo con noi Dennis Murano ciao Dennis ciao Stefano ammazza che sigla e che presentazione complimenti cerchiamo di fare le cose bene beh questo è il libro come vedete riflette la copertina perché Dennis non si farà vedere questo è una novità anche per RocketSafe perché Dennis? spiegacelo in due parole almeno togliamo la curiosità a chi ci ascolta beh io ho fatto una scelta a un certo punto stanco di quelli che erano le posso dire le parolacce? certo che sì stanco di leggere le cazzate che venivano dette in giro ho cercato di squarciare il velo che celava la realtà della vita in azienda e del lavoro che fa un HR stanco di leggere quei librettini di management che ti raccontano favole di organizzazioni illuminate manager runti dal signore ho deciso di raccontare la mia realtà che in realtà poi è la realtà di tanti se non di tutti però nel farlo ho dovuto diciamo cambiare il mio nome quindi mettermi sotto mentita spoglia modificare un po' la voce con dei software semplicemente perché anch'io ho un mutuo da pagare Stefano e penso che nessuno assumerebbe un HR che scrive libri in cui racconta quanto sono coglioni i propri colleghi manager e alcuni imprenditori beh è più comprensibile una scelta e devo dire che la cosa è stasiante dal mio punto di vista ma come vedo anche insomma il tantam che si genera attorno al tuo ultimo libro perché non ne hai scritto solo questo è proprio il dire le cose pane al pane al vino al vino cioè quando leggevo il tuo libro dentro di me pensavo ma quanti sono che nel proprio dialogo interno ragiono in questo modo ma nonostante questo poi di facciata sono diversi guarda stai stai esplicitando quella che è stata poi la motivazione a scrivere questo libro nel senso che ho messo nero su bianco proprio il dialogo interno e la cosa che mi ha più stupito e fatto piacere in questi anni in questo anno che ho scritto questi libri sono le persone che ti dicono è proprio così anzi addirittura alcune persone mi scrivono ma tu hai lavorato nella mia azienda? incredibile e proprio questa a volte formalità che dobbiamo manifestare in certi contesti all'esterno visto che te hai una lunga esperienza nel mondo HR nelle aziende quanto ingessa le relazioni e i rapporti? io odio il politically correct Stefano io penso che il politically correct sia l'arma più potente della mediocrità perché attraverso queste regole del non si può dire non si può fare sarebbe meglio che si vanno a poi diluire la sostanza vera delle cose cioè se dici una cagata hai detto una cagata non ti dico che sei un coglione ma ti dico che hai detto una cagata e te lo devo dire così perché devi capire se invece si usano quelle formule che mi insegnano che insegnano durante i corsi di formazione il tipo l'avvocato dell'angelo sono d'accordo con te ma oppure sono d'accordo con te aggiungerei che ma una cagata è una cagata cioè a certi livelli quindi se non parliamo con persone magari in formazione stagisti eccetera ma parliamo con manager bisogna avere la libertà di confrontarsi in maniera anche spigolosa sapendo distinguere perché siamo manager la componente relazionale personale dalla componente professionale ecco è questa cosa che io non capisco quindi a mio avviso le regole sociali alcune regole sociali alcune regole all'interno delle organizzazioni su cui certe cose non si devono dire o certe cose non si devono toccare e ce ne sono tante Stefano poi tu che ti occupi di sicurezza chissà cosa avrai visto sono un tumore sono un cancro per le organizzazioni che prima o poi concordo pienamente perché appunto proprio nel mio settore tanti si celano dietro citazioni di articoli di legge sentenze eccetera eccetera quando in realtà quando vuoi impattare su una persona appunto quanto più diretto sei e meno formalità usi e meglio migliori risultati insomma puoi ottenere assolutamente sì nel senso che bisogna distinguere la forma dalla sostanza in tante attività nell'ambito HR c'è una forma che è quella burocratica è quella legislativa e siamo invasi da questi aspetti però sai il mio mestiere come penso anche il tuo lo puoi fare in due modi lo puoi fare lo puoi fare in maniera corretta da un punto di vista burocratico metodologico di forma ma non toccare minimamente la cultura aziendale non educare minimamente le persone che lavorano all'interno dell'organizzazione prendo l'esempio che magari è un po' trasversale la ISO i manuali della qualità cioè io ho letto dei manuali che sono delle favole bellissime sulla carta è una sinfonia di Beethoven poi ti giri guardi nel reparto guardi in azienda e dici beh dove è finita dove è finito il manuale cioè se non se non ribaltiamo il concetto cioè che i processi le regole le legislazioni sono a sono servi della parte pratica non andiamo da nessuna parte io lavoro ho avuto a che fare con persone che spendono ore per scrivere dei manuali bellissimi e nemmeno un minuto per farli capire per creare una cultura all'interno dell'organizzazione quindi meno forma e più sostanza è quello che auspichiamo in tutti poi le in tutte le sfaccettature delle nostre realtà aziendali e fra l'altro appunto in qualità di HR da quant'è che fai l'HR manager Dennis? eh ormai 15 anni eh quindi insomma comincia a essere un po' tantino il mondo è cambiato e in questa dimensione te cioè vai dalle selezioni fino alla vera gestione personale fino anche insomma al termine del rapporto di lavoro quindi la vita di una di un lavoratore te la te la vivi dall'inizio alla fine la vedo tutta la vedo tutta soprattutto la parte centrale nel senso che non c'è solo la selezione e la chiusura c'è tutta poi la parte di gestione che poi è la parte è la parte critica il vero il vero dilemma il vero dramma anzi è quando una persona esce da un'organizzazione nello stesso stato in cui è entrata e significa che non ha fatto un percorso significa che non ha non ha imparato niente non ha capito niente e molte organizzazioni sono così quando vieni assunto è come se entrassi in un in uno stato criogenico quindi vieni congelato vieni imbalsamato e vieni come dire vengono usate le competenze che hai ma non è così un'azienda non deve ragionare così non deve funzionare così un'azienda deve far crescere le persone crescere con le persone e grazie alle persone infatti anche io nel mio team ripeto sempre che dal primo gennaio al trentun dicembre dello stesso anno saremo sempre evoluti se non l'abbiamo fatto ho sbagliato qualcosa io e hanno sbagliato qualcosa loro perché l'evoluzione fa parte della nostra natura e parlando di sempre su questo tema le le organizzazioni sempre di più magari rispetto al passato professano una una vision talvolta bellissima una mission altrettanto bella supposto che ci sia del genuino e che non sia solo un'opera marchettara come portare appunto il lavoratore a a perseguire no a svolgere il proprio ruolo in un'azienda allineandosi alla vision e mission dell'organizzazione hai fatto una premessa mica da poco cioè premettendo che quello che viene dichiarato sia la realtà anche perché immagino quante volte hai sentito la parola safety first nelle organizzazioni purtroppo non è una premessa scontata secondo me una persona che entra all'interno di un'organizzazione deve guardare i comportamenti i comportamenti ti dicono la reale cultura di un'organizzazione io posso scrivere safety first come posso dire siamo un'azienda innovativa ma se poi scrivo safety first nessuno utilizza i dpi oppure dico siamo un'azienda innovativa e utilizzo excel oppure c'è tanta carta stampata non c'è un gestionale non c'è un'organizzazione me la sto raccontando quindi bisogna essere dei bravi osservatori i bravi osservatori fanno carriere in azienda nel bene e nel male è una di quelle caratteristiche che puoi utilizzare a tuo vantaggio lo puoi fare sia in maniera paracula che in maniera intelligente io spero sempre che venga utilizzato in maniera intelligente però i bravi osservatori sono un bene prezioso perché capiscono dove sono e capiscono come contestualizzarsi all'interno della struttura organizzativa quindi quando parli di osservatori più concretamente cioè persone che stanno attenti a ciò che succede in azienda non solo a ciò che succede stanno attenti a quelle che sono le dinamiche non è facile nel senso che stiamo parlando veramente di una competenza difficile io personalmente all'inizio della mia carriera ovviamente tu mi hai chiesto da quanti anni faccio le char manager da 15 anni però la mia carriera ho fatto anche la gavetta e all'inizio della mia gavetta di porte di pali in faccia ne ho presi tanti proprio perché facevo l'errore di partire con i miei principi con i miei valori eccetera e poi mi ritrovavo di fronte a situazioni che non riuscivo a comprendere quindi significa proprio andare a capire la vera essenza di un'organizzazione capire le persone che sono che sono diciamo al vertice come ragionano tu hai detto no nella mia organizzazione io dico che se dal primo gennaio al 31 dicembre non è cambiato niente non siete evoluti ho sbagliato io qualcosa ci sono tanti principi tanti concetti che tu in un'unica frase stai stai in qualche modo trasmettendo stai trasmettendo l'elemento di crescita ma quindi immagino la formazione l'aggiornamento professionale e poi non stai dicendo avete sbagliato voi qualcosa ho sbagliato io qualcosa quindi ti metti tu in prima in prima in prima in prima in prima ecco vedi avere la capacità di leggere le parole di un manager contestualizzarlo all'interno di un processo e capire quella che può essere la cultura di base fa parte del lavoro delle char e fa parte del lavoro di chi fa parte del lavoro e sarebbe una competenza che chi entra in azienda dovrebbe avere perché in questo modo si semplifica la vita se capisce effettivamente quali sono gli elementi vincenti dell'organizzazione impara a comportarsi e impara a capire che cosa deve fare per lavorare bene per essere soddisfatto all'interno dell'organizzazione ma anche per capire se l'organizzazione è giusta per lui o meno se io lavorassi per te saprei per esempio che devo che se mi trovi con un libro in mano per te è un buon segno se ti dimostro che mi informo che cresco per te è un buon segno se ti faccio una proposta probabilmente mi ascolti ecco questi sono gli elementi che mi aiutano a gestire quella intraprendenza dove per primo ci si prende dobbiamo prenderci la responsabilità insomma noi che conduciamo le organizzazioni dall'altro chiediamo una proattività perché poi succede questo a volte che le organizzazioni magari vogliono portare le persone a un percorso di crescita ci sono quelli che poi sono fermi come i massi dell'isola di Pasqua non riesce a smuovere allora io dico sempre le relazioni in ogni in ogni contesto e anche quindi nella dinamica della crescita dobbiamo essere in due quindi ci deve essere sì una direzione molto sensibile e anche una popolazione lavorativa che intercetta questa sensibilità con la voglia di crescere però se sei chiaro se sei chiaro fin dall'inizio questa selezione diventa naturale cioè se tu dichiari in maniera sincera se quindi senza senza e qui rientra la sostanza no? senza frasi paracule se dichiari in maniera sincera cosa ti aspetti dall'altro e l'altro è il primo che si accorge se è in linea o meno con le tue esigenze e quindi diventa anche più semplice gestire certe dinamiche come per esempio mandar via qualcuno ecco adesso esce la parte un po' cinica delle char e quindi la proattività tra virgolette te ne rendi subito conto e non hai più bisogno nemmeno di dichiararla perché non c'è miglior sistema di controllo che la cultura e il contesto concordo pienamente nel tuo libro troviamo anche un siparietto con ora non mi ricordo se è il consulente della sicurezza o l'uomo della sicurezza in azienda ecco nella tua esperienza questo signorotto signorotta che sia che personaggio è? ovviamente lo stereotipo è un po' stereotipo ti dico che l'omino della sicurezza nella mia esperienza sono stereotipando sono di tre tipi quelli bravi ne ho conosciuti pochi quelli che conoscono bene le normative conoscono bene la legge la mettono da parte guardano l'azienda e capiscono come comunicare in maniera corretta i principi quei principi in azienda e che che tipologia di azioni fare all'interno dell'organizzazione però sono veramente pochi esistono poi quelli che utilizzano la sicurezza le leggi eccetera come un'arma cioè io questi personaggi ne ho incontrati tantissimi e non li sopporto qualsiasi cosa gli dicevi qualsiasi cosa volevi fare è ma c'è la sicurezza io mi ricordo una volta che avevo a che fare con questo responsabile della sicurezza è che io cercavo di fare un po' di employer branding e quindi volevo portare una scolaresca a visitare un sito produttivo anche per fargli capire come eh ma sai ci sono le norme bisogna che camminano sì sì tutto facciamo tutto eh ma devono mettere questo dobbiamo fare quest'altro eh ma io non so se mi posso prendere questa responsabilità quanti anni hanno possiamo fargli firmare questo documento per cui non ne cioè era tutto un no ma se eh così no così non mi stai aiutando sei sei un ostacolo anzi è un'iniziativa bellissima quella di accogliere noi quelli che saranno poi i futuri lavoratori ovviamente si definiscono le regole perché nessuno si faccia male ma chi è che vuol fare male a un ragazzo e anzi io ritengo quando ci sono queste iniziative gli open day i safety day sono un momento anche di collante per l'organizzazione stessa che che vive un momento diverso rispetto alla routine eh per esempio io adoro gli open day perché sono quel momento in cui il lavoratore lo vedi meno collega e magari più boh padre di famiglia compagno di qualcun altro però è ovvio che nelle dinamiche della gestione della sicurezza ci devono essere tutte queste accortezze ma non possono essere gli impedimenti non è che lo stiamo stiamo infilando le persone estranei al lavoro in una centrale nucleare dove c'è un processo in corso giusto sì il concetto di base è non dirmi cosa non devo fare dimmi cosa devo fare per rendere la cosa possibile cioè che è diverso come approccio capito che magari la sostanza è la stessa ma l'approccio è completamente diverso sorrido perché quando parlo insomma dell'attività del consulente ma anche della figura interna è che tendenzialmente dovremmo essere portati a risolvere problemi non a portare nuovi problemi in quel caso non torna no non torna infatti molto spesso ti ripeto l'omino della sicurezza non è un problem solver è un problem maker e quindi a volte ti viene proprio la paura qualsiasi cosa devi fare perché c'è l'uomo nero come lo chiamo io che sventola la bandiera della sicurezza e poi devo dirti la verità purtroppo a volte capita di avere a che fare con persone che nonostante tutto quello che consegue in ottica di ripercorsioni sia personali penali sia a livello aziendale gestiscono la sicurezza solo da un punto di vista burocratico e non da un punto di vista pratico e quindi guardano semplicemente le carte e poi però in azienda succede di tutto e sono un po' è come guidare la macchina senza patente cioè non so come definirlo ma sono dal mio punto di vista sono degli scellerati e purtroppo ci sono anche questi personaggi e ti dirò la verità ho visto anche aziende che li cercavano così e che almeno sono lì buoni fanno la carta esatto e non mi rompi coglioni in reparto guarda concordo sui tre i tre scenari mi sono rivisto anche da alcune facce concordo pienamente concordo pienamente ecco visto che andiamo anche verso la conclusione io in più occasioni ripeto che a volte il mondo e i char e il mondo safety sono come due feudi che poggiano su colline separate da una valle nella tua esperienza o nel tuo immaginario c'è la possibilità invece di unirle attraverso un ponte è alla faccia io ti dico la mia esperienza le aziende dove ho lavorato che sono le aziende migliori quindi che raggiungevano risultati migliori che avevano più successo non c'era questa distinzione tra i char sicurezza salute eccetera nel senso che tutte le funzioni che in qualche modo toccano l'elemento culturale delle persone inevitabilmente siedono dallo stesso lato del tavolo cioè non è che siedono allo stesso tavolo siedono allo stesso lato del tavolo perché sono delle funzioni che inevitabilmente vanno a toccare l'elemento più prezioso più complesso ma anche quello che permette di fare la differenza cioè le persone il tema della cultura dell'individuo all'interno dell'organizzazione è un tema che è il principio su cui le char lavora dalla mattina alla sera e inevitabilmente anche la sicurezza c'è dentro cioè io quando entro in un'azienda nuova oltre a i colleghi però due entità vado subito a conoscere il primo sono i sindacati il mio lavoro è questo quindi devo capire chi ho dall'altra parte del tavolo e poi vado a conoscere chi si occupa di sicurezza perché devo capire chi ho dalla mia parte del tavolo anche perché appunto ci stiamo cioè alla fine stiamo parlando è una distinzione che ha poco senso perché il focus di entrambe le persone è il lavoratore la persona e quindi che siano piani di comunicazione programmi di crescita formazione si può fare congiuntamente cioè tu immagina in questo momento con la pandemia io ho lavorato in questa fase con due aziende anche molto grandi per gestire questa parte di pandemia io quanto Lecciar ha dovuto lavorare con la sicurezza per andare a definire tutti i processi procedure sia nell'ambito dello smart working sia nell'ambito dell'entrare in azienda e lì hai se hai dalla tua parte qualcuno che capisce il tuo lavoro capisce l'importanza è un attimo io ho fatto delle cose meravigliose in alcune aziende in termini di protocolli sia di sicurezza sia di prevenzione sia che sono diventati poi degli elementi di welfare nei confronti dei collaboratori ma con l'aiuto della sicurezza esatto ti devo portare a qualche convegno perché ne sai più dei cosiddetti esperti di sicurezza senti andando verso la conclusione possiamo spoilerare spoilerare quello che sarà il tuo futuro d'autore sì allora il 22 aprile esce la seconda edizione di Selezioni inumane nel senso che Selezioni inumane finora è stato un self-publishing sono stati acquistati diritti da anteprima edizione che è la stessa casa editrice che ha pubblicato Risorse inumane e quindi ad aprile uscirà una nuova edizione esatto ad aprile uscirà una nuova edizione di Selezioni inumane rivista con un editing e soprattutto con le storie dei lettori che è molto interessante e poi da settembre invece da ottobre invece uscirà la continuazione di Risorse inumane quindi l'episodio 2 di Risorse inumane che si era un attimo interrotto in un momento diciamo particolare per il Dottor X uscirà per una grande casa editrice per la Vallardi editore e con il titolo le faremo sapere e quindi da ottobre ci sarà tornerà il Dottor X non verrà l'ora di leggerlo perché per me sono diventato un fan del Dottor X ma proprio per tutto quello che ci siamo detti oggi Dennis è passato velocissimo il tempo ma ci hai dato bisognerà sbobinare questa intervista perché lo sai sono un tuo stimatore e te lo dico con veramente sincerità è reciproco Stefano anzi ci vorrebbe questa cultura anzi sai cos'è tu non sei solo portatore di cultura sei portatore di un approccio che è interessante nell'ambito della sicurezza e guarda che l'approccio fa tanto quindi cerca di creare degli adepti per favore con il tuo approccio così anche il mio lavoro diventa più facile ma guarda in realtà siamo in tanti e che a volte bisogna avere un po' quel coraggio che in qualche modo ci racconti anche nel libro di svecchiarsi un pochino togliersi un po' di abiti e essere un po' più diretti perché poi ingessarsi troppo sulla forma ci porta da poche altre quindi ti ringrazio anche di questo riconoscimento beh credo che in qualche modo ci intercetteremo in futuro di sicuro per chi già ci segue Dennis il mercoledì tiene le sue room così si chiamano su Clubhouse ma è attivissimo su LinkedIn in rete lo potete trovare e i suoi a volte le sue le sue spine a volte i suoi consigli sono veramente illuminanti Dennis grazie davvero grazie a te Stefano davvero alla prossima beh che dire magari tanti HR manager prendessero esempio da Dennis migliorerebbero veramente i rapporti in aziende il confronto anche se a volte è spigoloso come ci diceva Dennis ma se è costruttivo gli spigoli poi possiamo anche smussarli e trovare una via comune beh penso che sia stata una bellissima intervista ne sono anzi certo e come al solito mi raccomando be safe be rock mi raccomando 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 mi raccomando